Anche l'Onao, l'organizzazione nazionale assaggiatori olio d'oliva, avrà un ruolo importante durante le giornate di olio oliva che si apriranno domani ad Imperia e che si concluderanno domenica. In tutte le tre giornate dell'evento, l'Onao sarà presente dalle ore 10 alle 19 all'interno del padiglione istituzionale in Calata Cuneo con l'Itest Corner. Sabato alle ore 9 si terrà poi il consiglio dell'Onao presso la sala panel della sede imperiese della Camera di Commercio. Alle ore 10 avrà inizio il corso di aggiornamento aperto a tutti i soci che si svolgerà nel ristorante Salvo Cacciatori. A seguire, sempre sabato alle ore 14 presso l'Itest Corner, si terrà un approccio all'assaggio dell'olio per i buyers esteri del Nord Europa e della Russia, in occasione dei B2B organizzati dall'ente camerale Riviere di Liguria e da Liguria International. Nello stesso pomeriggio, alle ore 16.30, in piazza Ulisse Calvi, nell'area Games, sono previsti inoltre due momenti divulgativi per far scoprire le proprietà organolettiche dell'olio ai bambini. Le degustazioni si svolgeranno alle ore 16 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 17.00. Grazie a tutti.